5 luglio 2013, oggi era la giornata dedicata alle soluzioni, del resto il network si chiama United Nations Sustainable Development Solutions Network, quindi solutions, solutions, solutions. Abbiamo parlato di una soluzione che riguarda l'inquinamento del Mediterraneo, sarà una flagship initiative, c'è un'iniziativa di fondamentale importanza per il futuro del nostro network che riguarda individuare e monitorare le microplastiche nel Mediterraneo, poi si è parlato di come riuscire a sostenere le piccole aziende agricole cercando di integrare la parte ambientale con quella più della produzione e la parte sociale e poi un altro progetto che riguarda il monitoraggio delle fonti rinnovabili legato al cosiddetto progetto Desertec, sono tre aspetti molto importanti che in fondo evidenziano quali saranno anche gli argomenti sui quali ci focalizzeremo nel futuro saranno quelli dell'energia, saranno quelli dell'inquinamento, saranno quelli inevitabilmente legati a tutto il fronte del mare quindi sono progetti che nei prossimi anni verranno monitorati e sui quali sicuramente vogliamo lavorare insieme a quelli dell'agricoltura, sono state giornate molto intense, un buon viatico per il futuro per un progetto di lungo termine. Grazie 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 Grazie